Del suo destino evolutivo. Chi è un cieco spirituale? Commento. È l'individuo che è ancora del tutto inconsapevole del suo destino evolutivo. Alcune creature che nascono o diventano cieche subiscono questo effetto perché in molte vite precedenti sono state spiritualmente cieche. La loro cecità spirituale si riverbera allora nel piano fisico come cecità fisica.